Ben trovati, buona giornata con Vangelo Giovane, ben trovato a Donnazzareno Galullo. Buongiorno Francesco, buongiorno anche a tutti quanti voi. Oggi è lunedì 28 gennaio, Santo Maso d'Aquino, quindi auguri a tutti gli studenti. Auguri a tutti gli studenti. Il trono degli studenti. Soprattutto a coloro che si stanno anche preparando ore e ore notturne per gli esami, quindi un grande in bocca al lupo agli studenti universitari. Ebbene, cari amici, quest'oggi il nostro appuntamento di Vangelo Giovane settimanale, intanto io rubo qualche secondo, qualche istanza perché ti permetto di riassestare un po' il computer per i nostri sms in diretta e le vostre telefonate. Ecco, quest'oggi parleremo di preghiera. E la domanda che è un po' provocatoria, che abbiamo lanciato anche attraverso il web, la vedete già in sovrimpressione, con il nostro numero di telefono, 0882 41 83 80. La nostra grazia più risponde alle vostre telefonate. Dio ascolta le mie preghiere. E poi ancora gli sms, 380 24 18 311. E poi la nostra pagina di Vangelo Giovane, Vangelo Giovane Tu, su facebook.com slash Vangelo Giovane Tu, che possiamo vedere se la regia ci dà subito l'opportunità, oppure con calma. Eccola qui, la pagina di Vangelo Giovane, e c'è un post che trovate proprio subito sotto, ecco, scorrendo la pagina, troverete l'immagine di una piccola fanciulla. Ecco, questo è il Vangelo di quest'oggi, con questa bella immagine di Gesù. Una piccola fanciulla che prega e poi, alle spalle, Gesù quasi che la accompagna, le dà un bacio sulla testa. Molto bella questa immagine. Molto carina. Ci permette di tornare un po' anche nelle nostre famiglie, inculcando nei nostri figli, ecco, anche la preghiera. Quindi, possiamo immaginare la sera, soprattutto, ecco, questa preghiera che si rivolge al Signore. Ma Dio, ascolta le mie preghiere, Don Nazareno? Dipende, dipende anche se la preghiera è nella volontà di Dio, perché Gesù, quando ci ha insegnato a pregare, ci ha insegnato a chiedere che sia fatta la sua volontà. Quindi, innanzitutto, questa è la cosa più importante. Cioè, mettiamola come base. Che sia fatta la volontà di Dio. Poi, tutto il resto, ovviamente, lo vedremo adesso nella trasmissione. Sì, io intanto volevo cominciare subito con una nostra amica che ci ha scritto in modo privato sulla pagina di Vangelo Giovane, Don Nazareno, a cui ti chiedevo, ecco, una risposta. Ho un paio di domande. Se vuoi possiamo aprire e chiudere una parentesi. Intanto vi esorto, cari amici, a chiamarci. So già che ci sono delle telefonate. Noi attendiamo attraverso la regia. Ecco, ci scrive questa nostra amica che chiamerò Serena, ma non è il suo nome. È un auspicio che uno sia sereno. Ecco, bravo. Io ho avuto un'infanzia difficile. Mio papà è stato ucciso sotto i miei occhi e avevo otto anni. La mia mamma si è risposata con un altro uomo, ha avuto altri due figli, si è riformata un'altra vita e quando io avevo 15 anni lei, il suo compagno, sono andati a vivere a nord. Io sono cresciuta sola, a 16 anni ho conosciuto un uomo, sono rimasta incinta, lui mi ha detto di sposarci. Io non ho capito niente, credevo che era la soluzione giusta e in tre mesi mi sono sposata. Ma dentro di me c'è una sofferenza. A 18 anni segnavo di andare dal mio amore che ho conosciuto a 8 ed invece sono rimasto intrappolato in questa realtà. Mi limito solo a guardarlo, a piangere e non posso fare niente. La mia anima si è spenta. Mi chiedevo se tutto questo percorso della mia vita me lo son creato io oppure era scritto da qualche parte. Io sono distaccata, ho la testa sempre là. Io vedo sì mio marito come un fratello maggiore, lui magari mi ama tanto ed io soffro anche per questo. Non riesco a capire, più niente ci scrive Serena che credo stia anche seguendo questa puntata. Ho paura, tanta paura di vivere così perché provo tutto questo amore per un'altra persona e a tal punto da non poterlo dimenticare. E perché dopo tanti anni ci siamo ritrovati, era destino, non riesco a darmi risposta. Le mie domande sono queste. È stato Dio a darmi questo matrimonio con quest'uomo o è stato un mio incidente di percorso? Tutte le coppie che divorziano e danno rapporti con altre persone, le loro anime, ecco per tutte queste coppie, le loro anime verranno punite mortalmente da Dio un giorno? No, non penso. Non penso anche perché, qui la lettera esige una risposta un po' più personale, quindi non so, anche via TV ci proviamo perché qui si parla proprio di errori fondamentali ma non dovuti probabilmente alla coscienza stessa della ragazza, della donna che abbiamo chiamato volutamente Serena, ma dovuti anche all'ambiente familiare, alle circostanze, questa situazione di questo omicidio del padre, quindi questa carenza della figura paterna. Ovviamente in tutto questo percorso ci sono degli errori, errori che poi si comprendono da grandi. Dio permette, certamente Dio ha permesso anche questi errori, anzi probabilmente è proprio su questi errori che Dio ha costruito una storia. Il suo matrimonio sono convinto che anche se non è stato quello che lei ha desiderato, nel senso con questa persona che lei ha rincontrato, però il Signore insomma l'ha messo davanti. Se c'è stata libertà nell'accoglimento, ecco uso questa parola un po' antica, accoglimento anziché accoglienza, accoglimento di questa persona che è diventata suo marito, quindi insieme a lui siete diventati una cosa sola, quindi questo Dio lo ha benedetto. Per cui io temo tanto che tutta quest'altra situazione di questo incontro sia più una tentazione, una tentazione che risveglia sentimenti passati. Bisogna fidarsi di Dio e dire Signore io ho ricevuto questo regalo da Te che è questo marito che ho adesso e vado avanti con questo. Tutto il resto è sentimento, è sentimentale, e chiedo scusa per la parola, sa anche di patetico, questo ritorno al passato dall'età infantile, di questo amore adolescenziale per adolescenziale ha molto di patetico, bisogna essere seri e ragionare, essere più razionali nelle questioni matrimoniali perché altrimenti davvero giustificheremo tutto in base di questa valenza dei sentimenti, i sentimenti devono essere indirizzati dalla ragione, lo diciamo spesso, l'ho detto anche l'anno scorso, quando i sentimenti non sono indirizzati dalla ragione, quel detto che è molto opinabile va dove ti porta il cuore, veramente porta dovunque e anche in cose sbagliate, pensate solo al bene dei figli, pensate solo a che cos'è un matrimonio, cioè è la vocazione che Dio ti dona, è Dio che ti dona quella persona, quell'uomo, quella donna, non si può buttare a monte una vita solo perché si risveglia un sentimento e anche perché il maligno agisce molto sui sentimenti, per riprenderla con l'argomento della scorsa che ho visto che era passato in sovrimersione per un piccolo errore, ma bene che sia passato perché il demonio lavora anche su questo, sui ricordi, infatti una delle guarigioni che dobbiamo chiedere è la guarigione della memoria, non tanto dell'albero genealogico, queste cose lasciamole perdere perché sono nelle mani di Dio anche tutti i defunti e a volte mi vengono a chiedere sai lo voglio alla messa per l'albero genealogico e allora chi non la fa cos'è dannato, insomma lasciamo perdere, preghiamo per i vivi e i defunti, ma pregare per se stessi è anche per chiedere la guarigione della memoria, la memoria che guarisce e la memoria che guarisce dal passato, da tutto ciò che il passato ha provocato, da tutto ciò che il passato crea come fantasmi del presente, anche perché è inutile che ci prendiamo in giro, esiste il presente, esisterà il futuro ma il passato non c'è più. Quindi a serena diciamo? Diciamo di pregare perché guarisca questa memoria, questa memoria che ti fa tornare indietro e ti farebbe compiere un gravissimo peccato, riguardo poi ai divorziati, risposati eccetera, la peccaminosità dell'atto non indica dannazione insomma, non indica inferno perché tutto è rimesso nelle mani del Signore, ovviamente il divorziato, risposato, convivente, convinto, cosciente eccetera eccetera, non può accostarsi alla comunione eucaristica, non peraltro perché giustamente è mantenuto il principio della validità di un solo matrimonio di fronte a Dio, a meno che non ne venga rilevata la nullità al momento in cui l'atto è stato posto, in cui cioè è stato celebrato il matrimonio. Ma questo è argomento di un'altra puntata? Sì, ecco, ti rubo altri 60 secondi proprio per tornare sulla comunione, proprio perché c'è Adriana e poi chiudiamo la parentesi legata a delle vostre domande che escono al di fuori del tema di quest'oggi, chiedo gentilmente se un sacerdote uomo di Dio può rifiutare la prima comunione ad una bimba il cui padre non è cattolico, ma la madre è cattolica, la bimba battezzata è nata in Italia, è successo alla mia nipotina, cosa fare? Devo rivolgermi al vescovo? Sì, in questo caso sì, perché il vescovo a parte che è la sintesi dei carismi in una diocese e poi anche il dono del discernimento, ma probabilmente conosce un po' più approfonditamente le norme e non ci sono norme che vietano questo. E poi Don Nazareno ti volevo… Non è possibile, scusa Francesco, non è possibile vietare la comunione quando è chiesta da un genitore soltanto, certo è che però ci vuole l'accordo dei genitori, normalmente il parroco può darsi che sia stato messo in difficoltà dal fatto che non ci sia la piena adesione da parte di entrambi i genitori, quindi bisogna valutare bene il caso, perché quando si va dal vescovo a volte si dice di più o in maniera errata, ovviamente i vescovi che sono pastori, i pastori sono insomma umani, quindi chiederà anche al parroco, quindi la campana che bisogna ascoltare è sempre la DIN e DON, mai solo una campana. Certo, intanto io ti consegno una lettera indirizzata proprio a te, la signora Anna Cerzo Simo, spero, Cerzo Simo, Fiero Anna che ti ha scritto una bellissima lettera… Ma le ho scritto, le ho risposto… Ah, le hai risposto, bravo, da Sapri, ecco questa è anche una bella… Sì, le ho risposto, grazie, allora le ho risposto privatamente e non so se questa sarà evidentemente la risposta della risposta… Avrà subito scritto la lettera… Va bene, 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 allora… Problemi di convivenza anche condominiale, di perdono che pure insomma è necessario attivare, tra l'altro ho visto in una trasmissione, ma penso che posso fare il nome… Una trasmissione di Rita dalla Chiesa, Forum, ho visto qualche giorno… Sì, intanto abbiamo una telefonata… Sì, hai visto? Sì, lo voglio dire perché penso che i nostri telespettatori insomma hanno un telecomando, fanno zapping e quindi vedono anche delle trasmissioni, tra l'altro più interessante di altre perché si discute di casi anche di questioni insomma… Quotidiane… Quotidiane… A perdonarsi… A parlare di perdono… E il perdono quindi come dimensione anche umana della vita sociale… Ecco a me piace quando queste parole relegate solo all'ambito ecclesiale invece sono poi usate davvero perché era necessario proprio il perdono… e ho percepito diciamo questa grande valenza di questa parola in quella circostanza che poteva sembrare molto laica… Vabbè, lo volevo dire… 0882 41 83 80 per le vostre telefonate, ecco il tema di quest'oggi, Dio ascolta le mie previere, questa è un po' la provocazione che lanciamo quest'oggi… abbiamo una telefonata… Pronto? Sì, pronto… Eccoci, in diretta… Sì… La sento pochissima… Anche noi signora, quindi se in studio ci alzano la voce… Ok… Così ci sentiamo tutti… Allora lei… Ecco se ci può… Pronto, in diretta… Allora vado al dunque… Sì… Perfetto… Allora mi presento, mi chiamo Letizia, mi chiamo dalla Calabria… Sì… Ho alcune responsabilità all'interno della parrocchia… Sì… Comunque più che domanda avrei bisogno di un consiglio da parte sua, Don Nazareno… Sì… Allora il mio nuovo parroco ha imposto il rosario tutte le sere prima della celebrazione eucaristica… È una cosa bellissima… Non la sento… Va bene, va bene, l'ascolto… Sì, ha imposto il rosario… Sì, la celebrazione… Ok Letizia… Allora ascolti… Sì… Allora… Velocemente Letizia… Io avevo proposto, diciamo, più che il rosario, direi Vespri… Oppure, diciamo, un po' di silenzio e fare delle preghiere spontanee… Va bene… Secondo, diciamo… Eh? Sì, sì… Secondo le nostre esigenze, i nostri bisogni… Sì… E poi un'altra cosa, se ho qualche altro minutino di tempo… No, minuto no, secondi… Va bene… Grazie… Allora, Sant'Agostino dice che chi canta bene prega due volte… Sì… Nella mia parrocchia ci sono i responsabili che, diciamo, cantano bene, no? Ma nello stesso tempo… Uccidono le povere persone… Come le uccidono? A colpi di note? Con le parole… Ti lancio un sì… Ti lancio un sì… Ti lancio un femolle… Come le uccidono, scusa? Con le parole… Con le parole… Forse con le dicerie… Facendosi, diciamo, Dio… Degradando e uccidendo i fratelli… Ma come? In quale modo, scusa Letizia? Con l'atteggiamento… Va bene… Con i pregiudizi… Forse ho capito… Ti darò una risposta a entrambi le cose… Va bene… Va bene… Allora… Grazie Letizia… Abbiamo iniziato l'argomento della preghiera… Vedo che ci sono anche i messaggi… Tra l'altro Letizia diceva che io ho una responsabilità all'interno della parrocchia… Sì… Letizia, se vuoi condividere questa responsabilità viene anche nella mia parrocchia… Dove… Diciamo… Purtroppo di responsabilità condivise non ce ne sono molte… Tante cose… Ma che vuoi le piccole parrocchie… Va bene… Allora… Innanzitutto sulla preghiera… Uno… Il parroco ha proposto bene il rosario… Sì… E io ho postato su Facebook… Sì… Adesso ce l'ho anche io qui… Perché ci siamo aggiornati… Ho postato qualcosa di importante… Ecco… Eccola qui… Grazie… Questo è il Vangelo Giovane… Io vado su un'altra parte… Adesso poi lo condivido anche sul Vangelo Giovane… Sì… Perché siamo proprio in diretta… E condivido una cosa importante… Di quello che ho ascoltato mercoledì in un esorcismo… Ok… Adesso lo condivido subito… Perché così almeno anche Vito che è lì dalla regia insieme a… Michele… Michele… Vito Ciavarella, Michele Siena, quest'oggi… Bisogna solo aggiornare la pagina… Fate un aggiornamento… E tra poco arriva questa cosa qui… E c'è… Un rosario… Che circonda il volto della Madonna… Ma quello che è importante è quello che c'è scritto… Quindi… Se andate su Vangelo Giovane Tu… Lo vedrete… Allora… Sentite questa frase qui… E lo dico anche a Letizia… Per farti comprendere che… Non ha sbagliato il paroco… A chiedere il rosario… Riguardo ai Vespri… Puoi dargli il consiglio di unirli alla Messa… Quindi il rosario prima… E magari Messa e Vespri insieme… I silenzi vanno anche bene… Ma tante volte i silenzi sono il nulla… Soprattutto nelle nostre comunità… Le preghiere spontanee… Questo spontaneismo a volte è vuoto… Scusami se dico così… Ma ne ho esperienza… Allora… Un santo rosario è molto efficace… Sentite qui… Lo dico a tutti… Aprite bene le orecchie… Detto da una persona che ha problemi col maligno… Quindi detto da un demonio… Costretto dalla croce… Costretto dalla grazia di Dio… C'ero io con altri sacerdoti… Ve lo voglio raccontare… Perché lo scrive uno dei sacerdoti esorcisti… Che era lì… Presenti… Tra l'altro voglio salutarlo… Don Antonio Mattatelli… Mercoledì scorso… Mercoledì scorso… Quella… Quindi la corona del rosario… Intendendo ovviamente non l'oggetto… Ma quello che l'oggetto significa… Perché se l'oggetto lo devo tenere appeso… Al parabrezza della macchina… Rimane là… Come alcuni… Ah io c'ho la coroncina vicino al letto… Sì ma non… Per pregare il rosario bastano anche le dita… Quindi la corona è simbolica… Bisogna consumarla… No perché poi alcuni dicono… Ah questa corona è più potente… Questa è stata benedetta da quello… Lasciamo perdere queste fandonie… Nel senso che… Non è la potenza della benedizione del rosario… Ma è quello che significa… Significa la preghiera… Significa il dirle quelle Ave Marie… Non tanto tenere l'oggetto… Quindi attenzione… Per cui chiarita questa cosa qui… Quella quindi il rosario… E' una catena… E' una catena… E' una catena che unisce la terra al cielo… Quando voi dite il cielo… Quando voi lo dite… Quando voi lo pregate… Il cielo e la terra sono una cosa sola… Ah se voi sapeste la forza che c'è in quella catena… Io e lo dice Satana… Sarei finito… Poi dice un'altra cosa… Che qui non c'è scritta… Ma io la ricordo bene… Ero presente… Dice… I primi… E tanti che non ci credete… Siete proprio voi sacerdoti… E io mi sono sentito piccolo… La testa non sapevo dove metterla… E… E allora ho preso una decisione… Francesco… Quello posso dire… Sento un telefono… Forse il mio… Ma… Va bene… Siamo in diretta… In diretta perché non ho messo il silenzioso… Il silenzioso… Il silenzioso… Va benissimo… Allora non fa niente… Silenziato anche il telefono… Voglio dire questa cosa qui… Tra l'altro mi sta chiamando un amico… Che saluto… Michele… Ciao… Siamo in diretta Michele… Non disturbare più… Ehm… Io ho preso questa decisione… Sì… Da un anno e mezzo… Quindi il Santo Rosario tutti i giorni… In una delle tre chiese del paese… Alle 12… E c'è gente che lo fa… Vedo sempre… Adesso ho preso un'altra decisione… Anche alle 19… In un'altra chiesetta… Dove vengono più giovani… Quindi… Recitare il Rosario è importante… Ce lo ricorda la Madonna… Ce lo ricordano le apparizioni… Dal mille… Fino alle ultime… Di qualche giorno fa… Ce lo ricorda anche lo stesso Padre Pio… Lo stesso Padre Pio… Quindi è importante… Per cui Letizia… Proponi il Rosario anche ai giovani… Non avere paura… Per i lespi… Ecco uniteli alla… Alla… Alla messa… Dai questo consiglio al parroco… Poi… Il canto… Il canto è sacro… Il canto è sacro… Non si scherza con i canti… Il canto non è esibizione… Non è folklore… Non è… Prove estenuanti di canto… Per apparire… Non serve… Il canto è preghiera… Quello che canto… Devo crederlo… E Dio mi prende sul serio… Quindi… Chi canta… E non vive la vita cristiana… E lo ripeto sempre… E lo ripeto anche ai miei parrocchiani… Ma questo credo che è una situazione di tutte le parrocchie… Lo ripeto da… A tutti… Chi canta… E non è serio cristianamente… Lasci quel ministero… Chi canta e non si confessa… Si vergogni di cantare nel coro… Chi canta e non fa la comunione… Smetta di cantare… Perché prima va la vita cristiana… E dopo il canto… Perché il canto è sacro… E preghiera… Io non posso cantare delle cose… E vivere diversamente… San Agostino dice chi canta bene… Chi canta bene non significa chi canta perfettamente… O chi esegua la perfezione… Che sembrano… E' presente i 45 giri di una volta… Sì… O anche le tracce CD… Che tu capito… Un canto dall'inizio alla fine… Tu certe volte stai così ad aspettare… Che finisce il canto… Perché devono fare l'esibizione… E manca solo l'applauso… Scusatemi se dico questo… Ma perché è una situazione davvero ridicola… Si canta per esibirsi… I cori sono… La platea dell'esibizione delle parrocchie qualche volta… Non va bene… E poi qualche volta dico la verità… Molti cori cantano proprio malissimo… Che dico io… Il Signore si ottura le orecchie… E la Madonna dice… Basta… Permettetemi questa battuta… Quindi il canto è serio… 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 Ma anche… Io conosco… Ho dei brevi cantori anche nella mia comunità… Ovviamente tra alti e bassi… È uno sforzo… È uno sforzo… E poi… Molta formazione… Il coro non è un'associazione… Il coro suono… È un ministero essere del coro… È un ministero… Cioè significa che tu… Sei come il sacerdote… Qualcuno riconosce che hai questo ministero… Non è che tu… Ti svegli la mattina… E io voglio cantare… E non è saper cantare… Non è l'essere intonate… Quindi io… Adesso ho detto delle cose… Anche perché voglio che questo messaggio… Si espanda un pochino… Perché ci sia serietà… E poi non è importante… Diciamo… Fare il canto che piace al coro… Deve essere… Il canto deve piacere al Signore… Il canto deve essere preghiera fatta a Dio… Non preghiera che piace a me… Siccome piace a me questo canto… Ricordo qualche anno fa… Che c'era un coro… A cui piaceva un Padre Nostro… Che era il Padre Nostro… Non so se era dei Pu… Degli Oro… Non me ne ricordo… Per forza… Hanno dovuto fare… Questo Padre Nostro… Dei Pu… No… Non degli Oro… Era quello dei Pu… E il Padre… Tra l'altro un cappuccino… Ovviamente si trovò di fronte a questa sorpresa… Nonostante avesse avvisato… Sciolse il coro… Disse… Non ho bisogno di voi… Preferisco mettere il CD… Disse proprio così… E per un po' di mesi… Davvero… Non cantò nessuno… Ma… Da quelle ceneri… Rinacque un nuovo coro… Ricordo benissimo… Questa storia è accaduta… 15 anni fa… Allora… Don Nazareno… Abbiamo al telefono… Abbiamo una telefonata… Abbiamo solo due minuti… Per ascoltare la telefonata… E poi… E i messaggi… E poi… Avremo modo di rispondere… Subito dopo la pausa… Ma ascoltiamo la telefonata di Anna… Anna… Pronto… Buongiorno… Mi chiamo da Napoli… Come diceva… Sono Anna… Sì… Senta… Io purtroppo… Ho acceso un po' tardi… Ho iniziato a seguirvi… Dal momento della comunione… Riguardando… Ah sì… Separati… Divorziati… Sì… Diciamo che siamo fuori tema… Ma Anna… Anna… Facci la domanda… Purtroppo è una cosa che mi interessa… Sì… Ok… Quindi già partendo da questo… Diciamo… Ho costruito sulla sabbia… Il castello è caduto… E sono separata… Al comune… Sì… Quindi… Io… Parlando con alcuni sacerdoti… Loro mi hanno detto… Che finalmente sono uscita da questo peccato… E… Potevo fare… Affrontare… Il sacramento… Riguardo a… A questa mia libertà… Verso Dio… Che… Insomma… Non… Non sono più nel peccato… Mentre prima lo ero… Sì… Oggi non lo sono più nel peccato… Vorrei conferma… È così… Ancora… Cioè… Io non mi sono nel peccato… Poi non trovo giusto che la Chiesa… Condanni… Eh… Delle persone che si separano… O sia… L'uno o l'altro che sbaglia… Perché uno che è stato già condannato… In una situazione del genere… Cioè… Già sta vivendo una situazione così… Brutta… Riguardo… A… 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 Riguardo al suo cammino spirituale… Deve essere ancora penalizzato… Allora… Anna… Innanzitutto… Eh… Primo quesito… I sacerdoti… Non è che si inventano… Le regole… E le leggi… Ma… Siamo inseriti in un corpo unico… Che è il corpo mistico… Di Cristo… Che è la Chiesa… Che siamo tutti noi… Seconda lettura di ieri… Per chi non è stata messa… Va da vedere… Eh… Chi è stato… Se lo ricordi… Eh… E quindi siamo uniti… Per cui… Questo corpo di Cristo… Eh… 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 Se un membro soffre… Soffrono tutti quanti… Quando un'unità si interrompe… Questa unità… Ovviamente frazione il corpo di Cristo… Un matrimonio celebrato in Chiesa… Laddove questo matrimonio viene interrotto con una nuova unione… È un abbassamento del corpo mistico di Cristo… Quindi non è una punizione che infligge la Chiesa… Ma è una punizione che ti infliggi… Scusami… Non tu Anna… Direttamente… Ti infliggi tu nel momento in cui… Appunto passi a un nuovo matrimonio… Rinnegando quella unità… E indissolubilità… Perché i due principi del matrimonio sono… Unità e indissolubilità… Voglio dire… Quindi sono principi che non si possono derogare… La Chiesa non potrà mai derogare questi principi… Anche se venisse un Papa… Che per assurdo dicesse… Telefonato… I matrimoni possono essere così derogati… Quindi… Non avrà valore… Perché è un principio di San Cito nel Vangelo… Riguardo al tuo caso… Ovviamente… Non avendo vissuto l'esperienza del matrimonio… Come unico indissolubile… Nella Chiesa Cattolica… Ovviamente… Sei libera da questo vincolo… E quindi puoi accedere alla comunione… Però questa attenzione… Non è la via ordinaria… La via ordinaria… Ovviamente… Quindi… Che il matrimonio sia… Sancito dalla Chiesa… Che il matrimonio sia… Unico indissolubile… Consumato… Ecc… Sono argomenti che dovremmo trattare diversamente… Io dico ai divorziati risposati… Che sanno… Di non poter accedere alla comunione… Di non pretendere quello che non possono pretendere… Anzi… Di umilmente… Di accogliere… Questa norma… A loro salvezza… Ricordatevi che chi fa la comunione… E vive una situazione irregolare… Ovviamente compie un peccato più grande… Basti pensare solo al peccato di Giuda… Che intinge il boccone… E la parola di Dio… Nel Vangelo di Giovanni… Dice che Satana entrò in lui… Non entrò al corpo di Cristo… Quindi… Attenzione… Allora… 3802418311… Mentre per le vostre telefonate… 0882418380… Mentre su Facebook… Tanti sono anche i messaggi… Sì… Loredana ci dice… Abbiamo anche una telefonata… Telefonata… Scusate… Ma ascoltiamo qualche sms… C'era un messaggio di Loredana che dice… Si Dio ascolta le nostre preghiere… Sia nel cuore che nella vita ordinaria… Ossia Lui ascolta e aiuta… Basta aprire il cuore al suo amore… Ma dobbiamo anche sapere… Che i tempi di Dio non sono i nostri… E viceversa… Buona giornata a tutti… Grazie… Loredana… Loredana… E continua a pregare… E prega anche per le nostre intenzioni… C'è Maurizio che dice… Lui è stonatissimo… Io quando canto nel coro sono stonatissimo… Posso continuare… Si… Però… Canta in playback… Buongiorno Don Nazareno e Francesco… Sono… Vittoria… Non Vittoria… Vittoria… Sarà Polacca… Io sono molto credente in Dio… L'unica forza è che prego tanto… Che mio marito si converta… Vittoria… Sei convertita anche tu… Non è che preghiamo per gli altri… E poi noi… Vabbè… Scherzi a parte… Dobbiamo pregare molto… Ora poi dirò qualcosa sulla preghiera… Ma qualcosina… Magari poi… Rimandiamo alla prossima settimana… Sì… Buongiorno Padre… Penso che il Signore ascolti le nostre preghiere… Quando ci lasciamo completamente nelle sue mani… Io vorrei arrivare a questo… Grazie a tutti voi… Emanuela… E poi c'è un messaggio… Che abbiamo visto insieme durante la pausa… Di Eda… Eda… Problemi grossi… Probabilmente di plagio… Io chiedo a Eda… Se mi sta ascoltando ancora… Di rivolgersi alle autorità… Certo… Vai dai carabinieri… O dalla polizia… E denuncia tutto quello che hai scritto… Certo… Non voglio nemmeno dirlo… Per evitare… Eventualmente… Situazioni in cui potresti essere riconosciuta… Perché… Tele Radio Padre Pio… Insomma Padre Pio TV… Ormai si chiama così… Da quando c'è digitale terrestre… E' ascoltata davvero dappertutto… Quindi… Alcune cose… Siamo noi stessi… Che per privacy… Non vogliamo dirle… Per non… Essere insomma… Voglio dire… Portatori di qualcosa di negativo… Va bene? Si… C'è… C'è un nostro amico… Che si chiama… Il suo Nick… Mi fa sorridere… Però è così… Faccia d'angelo… Facciamosi un'altra risata… Faccia d'angelo… Bello questo Nick… Se uno invece non avesse la faccia d'angelo… Sarebbe… Il contrario… Faccia di corno… Però… Non è una cosa… Allora… Ci scrive il nostro amico… Immaginate di tornare bambini e stare davanti a vostro padre… Chiedere una cosa… E non siete ascoltati… Ma quello che avete di fronte è sempre vostro padre… Quindi come vi comportereste con vostro padre… Così… Chiedere al Padre Celeste… Ma essere come bambini anche ad 80 anni… Ricordate come eravate da bambini… E… Ridiventateci… Scrive questo nostro amico… Mentre poi Alessandro… Personalmente posso confermare… Che le mie preghiere sono state ascoltate… Durante la mia malattia… Ho vissuto momenti di preghiera… Come se mi sentissi in estasi… Durante le mie preghiere… A Maria… A Padre Pio… Misteri che non si possono… E non si devono… Non si possono… E devono raccontare… Mentre poi… Questo è il nostro amico Alessandro… Vado velocemente… Vuoi leggere qualche messaggio… No tranquillo… C'è Yolanda che scrive… Le preghiere devono essere fatte con il cuore… Allora sì che Dio ci ascolta… E con piccoli segnali ci fa intuire… Che qualcosa sta cambiando… In caso contrario… Se la preghiera è sterile… Detta solo con le labbra… Senza un briciolo di fede… E fiducia… Beh penso che Dio… La sua infinita bontà… Anche se passerà del tempo… Concederà quello che si chiede… Bisogna perseverare nella preghiera… Ci scrive Yolanda… Su questo… Su Vangelo Giovane Tu… Grazie Regia… Mentre Valeria… Valeria lo possiamo dire… C'è lo stesso cognome del nostro direttore… Dio mi ha sempre dato quello di cui avevo davvero bisogno… E poi ancora… Avevo bisogno di lavorare… Per avere più stima di me stessa… Oltre che per realizzare alcuni piccoli progetti… E il Signore me ne ha fatto trovare… Sono felice… Mentre poi… Anna scrive anch'io… Forse riferito a quello di Valeria… Dice… Lo adoro… Mentre Stefano ancora scrive… Io umilmente… Penso che Dio ascolti sempre le nostre preghiere… Umili… Se dette con il cuore… Ma è solo Lui che sa ciò che è giusto concederci… Noi dobbiamo solo spalancare le nostre braccia… Abbracciare la croce di nostro Signore… Mentre Giussi ancora… Tanti messaggi… Don Nazareno… Dio ci conosce… Lo sto vedendo anch'io… Ovviamente la preghiera nella dimensione più semplice… È una richiesta… Chiamata anche la preghiera di petizione… Signore fammi questo… Dammi questo… Dammi quest'altro… Io vi chiedo… E adesso vorrei le vostre risposte… Anche per telefono… Poi un messaggino velocemente… Qual è la preghiera più grande… Ecco… Preghiera di petizione… Di richiesta… Preghiera di ringraziamento… Preghiera di lode… Preghiera di adorazione… Non le ho messe in ordine… Vorrei chiedere qual è la preghiera più grande di fronte a Dio… E se esiste una preghiera più grande… Ecco… Perché poi alla fine diremo qualcosa… Ecco… Esiste una preghiera… Quella più efficace… Quella più efficace… Quella più potente… Nel senso della modalità… Però… Tra le quattro modalità… Che ve le ridico in altro ordine… Sì… La preghiera di ringraziamento… La preghiera di adorazione… La preghiera di lode… E la preghiera di richiesta… Qual è quella più gradita al Signore… Secondo l'insegnamento biblico… Abbiamo una telefonata… Se non sbaglio… Vuoi leggere qualche messaggio… No… Leggo un messaggio di Vincenzo… Che dice… Cercasi fratelli… Molto volentieri consacrati… Per fraternizzare sul Vangelo… Ma sì… Che bello… Forza… Rispondete… Facciamo una… Una comunità virtuale… Di apostoli del Vangelo… E poi ancora… Maurizio chiede preghiera… Per una bambina di due anni… Letizia… Che sta perdendo la vista… Li leggo questi… Anche se sono… Non sono dell'altro ieri… Vedo che tra l'altro… C'è stato qualcuno dalla redazione… Che ha risposto anche… Vi chiedo preghiera per il colloquio di lavoro… Che avrò… Queste richieste sono importanti… C'è anche quel programma di Francesco Savino… Quelle richieste fatte… Sulla tomba di Padepio… Questa preghiera di richiesta… Che è importante… Ah… Poi c'è l'altra preghiera… Non l'ho messa tra le quattro… Di intercessione… Di intercessione… E' comunque una richiesta… A partire alla petizione… Francesco Alpino… Eh… Don Francesco… Don Francesco Alpino… Don Francesco… Però mi chiedo scusa… Don Francesco… Io se mi chiamano Nazareno… Non è che… Me dando offene… No, no, no… Però è giusto… Un don… Un don… Un don… Anche la summa teologica di San Tommaso d'Aquino… Oggi… Ricorre questo santo… E San Leone Magno… Ma perché Dio ha impedito… Non ha impedito… A più modo di peccare… Questa è la domanda che si fanno in tanti… E San Leone Magno risponde… Ineffabile grazia di Cristo… Ci ha dato beni migliori… Di quelli di cui l'invidia del demonio… Ce li aveva privati… Bellissimo… Continuate a leggere voi… Ascolto e meditazione della Sacra Scrittura… Per chi era costante… E lo dice anche Don Francesco… Da non sottovalutare il Santo Rosario… Questa ripetitività dell'Ave Maria… È graditissima al Signore… E ve lo posso garantire… Sgraditissima al Maligno… Quindi… Tra l'altro… Lo ricordo un'espressione di Padre Pio… Padre Pio la chiamava l'arma… È un'arma… Io ho sentito il demonio che dice… Questi sono colpi… Spari che mi arrivano dritti al cuore… Assiduità nella riconciliazione… E so che per la R maiuscola… Vuol dire il sacramento della confessione… Detto anche della penitenza e riconciliazione… E Eucaristia Domenicale… E quando possibile anche feriale… Sforzo quotidiano di vivere il comandamento dell'amore… Penso che non ci sia metodo migliore… Donatoci per difenderci dal maligno… Era riferito all'altra cosa… Ma è bello anche perché è vero… È bellissimo questo… Don Francesco… Io adesso prendo Don Francesco… Lo condivido anche sulla mia pagina… Così… Almeno anche tutti i miei amici… E molti nemici… Che pure non mancano… Nella vita di ciascuno… Possono vedere questo bellissimo post… Adesso bisogna amare i nostri nemici… Ma sì… L'ho detto appunto perché… Il Signore ci dice di amare il nemico… E c'è… E non è facile… Perché noi amiamo gli amici… Poi quando gli amici o le persone care ci fanno uno sgarro… Noi siamo… Sono quelli che noi non perdoniamo… Perché diciamo… Proprio loro mi hanno fatto questo… E magari perdoniamo lo Stato… Perdoniamo il politico che ha rubato soldi… Perdoniamo il famoso fotografo che se ne scappa… E poi alla fine anziché scontare gli anni di carriera… Viene santificato dai media… E quelli li perdoniamo… Perché ovviamente mica dormono a casa nostra… Mica mangiano sul nostro tavolo… E allora… Allora… Ricordiamo… 380 24 18 311… Dio ascolta le mie preghiere… Questo è il nostro interrogativo di quest'oggi… Credo che saremo anche sulla… Con la prossima settimana sullo stesso tema… Ma abbiamo una telefonata… Pronto? Eh… Buongiorno… Eccoci qua… Mi sente? Sì… Maria… Maria da Salerno… Buongiorno… Volevo dare la mia testimonianza… Cerco di essere molto breve e concisa… Sì… Il Signore ascolta le nostre preghiere… La mia testimonianza è… Ascolta il 99% le ascolta… Solo che spesso noi cerchiamo il miracolo… A volte la preghiera deve approda dopo un periodo… Diciamo… Anche buio… E approdiamo quello che era giusto per noi… Ehm… Dico questo… Mi rilascio alla Signora che telefonava da Napoli… Che è separata… Anche io ho pregato per tanti anni… Perché il mio matrimonio andasse bene… Che il mio marito diventasse la persona che lo desiderava… Questo non è avvenuto… Però è avvenuta un'altra cosa… L'assegnazione a portare questa croce… Anche nel migliore dei modi… Sempre con il sorriso… Con la pazienza… E accettare… E accettare… Anche questo è preghiera… Io poi… Mi rifaccio sempre alle parole del Vangelo… Quando Gesù diceva… Se noi… Se anche non meritiamo una cosa… Un favore da un amico… Però… Per l'insistenza che questo amico è importuna… Allora… Un amico scende giù… E ti fa questo favore… Allora io credo… Anche se non merito… Grazie… Favore… Però… La mia preghiera è continua… Incessante… Ma fatta soprattutto con fiducia… Bene… Allora… Grazie… Grazie… Allora… Sulla preghiera noi dobbiamo… Centrare bene… Che cos'è… Cioè… La preghiera è… Il frutto della fede… E possiamo dire che senza fede non c'è preghiera… Perché ovviamente sarebbe soltanto magia… Senza preghiera non c'è fede… Sarebbe soltanto appunto… Una… Una creduloneria… Per cui la preghiera possiamo dire che è l'atto della fede più importante… La preghiera ci… Ha… La preghiera dice… L'uomo… Ha bisogno di Dio… E di un Dio in azione… Che però può agire soltanto se l'uomo stesso lo vuole… Quindi… Ecco perché la preghiera apre il cuore di Dio… Qualcuno dice… Vabbè… Ma Dio conosce già la nostra tendenza… Non c'è bisogno di pregare… Ecco… Dio ha lasciato l'uomo libero… Tant'è che… Quando capita qualcosa di male… Di negativo… Capita perché è la libertà dell'uomo… La discoteca brasiliana dove due giorni fa… Ho letto l'anno… Sì… Sono morti 230 e più persone… Non aveva le uscite di sicurezza… È colpa di Dio… Ma dove era Dio in quel momento? Dio poteva illuminare… Sì… Tutto vero questo… Ma anche tutto falso… Nel senso che… Non è così… Cioè… Laddove non si creano condizioni… Non dobbiamo lamentarci di Dio… Dio ci ha lasciato questa grande libertà… Gli aborti… Nell'ordine di 120.000 all'anno… In Italia… Non penso che li abbia chiesti Dio… Quindi… Se c'è denatalità… E se c'è situazione in cui appunto le famiglie… Cioè… Non è di Dio… Insomma… Attenzione… Quindi la preghiera induce poi noi… Anche ai cambiamenti di vita… Eh… La preghiera ci aiuta a essere… Eh… Quello che dobbiamo davvero essere… Infatti proprio sull'aborto… Ti volevo anche… Aggiungere altre percentuali di famiglie… Che dicono noi… Non siamo pronti ad avere un figlio… Perché forse economicamente non ci… Poi… Quando lo cercano… Dov'è la fede? Non arriva… Cos'è la fede? E allora… Cos'è fidarsi di Dio? Abbiamo una telefonata… 0882 41 83 80… Pronto… Ecco una… Giuseppe una cortesia… Abbassa il volume del televisore… Sì… Seguici attraverso il telefono… Perché ho già ascoltato il nostro ritorno… Sì… Grazie… Audio… Ecco Giuseppe… Velocemente Giuseppe… Abbiamo un paio di minuti… Sì… Io… Prima di tutto… Buongiorno donna Zaino… Ecco Giuseppe… Sono Giuseppe da Torino… Da Torino… Sono Giuseppe da Torino… Abbassa il televisore… Perché noi sentiamo… Ecco il ritorno… Il viaggio… Perché da qui a Torino… Sono mille chilometri… Sì… Voglio fare questa domanda… Sì… Tanti dicono… Tanti dicono… Međugorje… Sì… Quindi… Non lo so di questa… Di questa devozione… Ok Giuseppe… Va bene… Ne parleremo magari una trasmissione… Sì… Sì… È anche riduttivo… Tra l'altro… C'è una commissione… Seria… Che sta lavorando… E anche molto bene… Magari in una trasmissione… Vi dirò quello che posso io sapere… Dal mio piccolo… Va bene… Ovviamente… Questi devoti… Questi devoti di… Allora… Io non ti ho scontato… Noi abbiamo pochissimi… Perché ci ritorno… Però se… Da Međugorje… E da… Da questa esperienza… Guidata benissimo dai frati minori… Tra l'altro… Le persone tornano col desiderio di pregare il rosario… Beh… Fratelli… Ragazzi… Amici… L'albero si riconosce dai frutti… Il santo rosario… È importantissimo… Punto… Poi lo diremo la prossima volta… Qual è la preghiera… Certo… Più efficace e più forte… Purtroppo abbiamo pochissimi… Ormai abbiamo poco tempo… Io voglio solo leggere l'ultimo messaggio… A questo punto… Sempre se lo riesco a trovare… Ovviamente oggi… Tra Facebook e messaggi… Forse ho chiuso l'applicazione… No… Eccola qui… Allora… Il messaggio è questo… Esci qua… Ecco… Scusate… Qualcosa… Allora… La preghiera dei santi in cielo… E delle anime giuste in terra… E profumo che mai andrà disperso… Chi l'ha detto? Padre Pio… Il silenzio dell'uomo… Si traduce in ascolto di Dio… Ce ne sono tanti di messaggi… Li leggiamo velocemente… Ci danno l'autorizzazione… Sì… dai… Velocemente… Hai 30 secondi… Padre Lazzareno… Come posso fare per avere il tuo indirizzo… Potresti scrivere in realtà privata… Che il buon Dio la benedica… Scrivi… A Padre Pio TV… Viale Cappuccini… Grazie… Se fossi separata… Potete aderire al coro parrocchiale… Sì… Potresti aderire… Anche se sei separata… E divorziata… Risposata… È uno dei ministeri che può essere svolto… L'importante è svolgirlo con la coscienza… Cristiano… Per me la messa è la preghiera più grande e completa… Giustissimo… Ma voglio dire… Tra le varie cose… Adorazione, ringraziamento, eccessione… Eccetera… Ti abbraccio Cinzia… Però diremo che… C'è una forma di preghiera… Che è quella più pregnante… Che è anche presente… Durante la messa… Per me la preghiera più grande… È quella di ringraziamento… Grazie Gesù… Milva… La cantante… Forse… Se sei tu… Grazie lo stesso… Bello anche questo… Sì… Può essere… Perché più prego e più mi sento lontana da Lui… Non so pregare… Mi sento… Non è un problema di sentire… Noi dobbiamo sapere che più preghiamo… Più ci avviciniamo al Signore… Quindi quello che senti… Lascia perdere… Non dare retta… Prega… Pensa di meno… E prega di più… Lo dico a tutti… Pace a te… Mi chiamo Giovanni… Perché non venga esadito da Dio… Nelle preghiere che rivolgo a Lui… Per direzione di Maria… Leggetevi la lettera di Giacomo… La trovate nella Bibbia… Per la risposta a questa domanda… C'è anche Antonio che ha postato… Già… Grazie Don Mazzareno… Con la M… Con la N il mio nome… Ciao Francesco… Poi c'è scritto qualcosa… Ma il messaggio… È incompleto… Perché si è intasata… La… Memoria… E quindi ovviamente… Dobbiamo rimandare questo messaggio… Che è composto di quattro messaggi… Alla prossima volta… Perché non ancora si completa… Va benissimo… Allora… Lunedì prossimo… Vangelo Giovane… Sempre alla stessa ora… Con Don Nazareno Galullo… Con la stessa tematica… Credo Don Nazareno… Non siamo riusciti anche quest'oggi… Siamo su questo argomento… Ovviamente… Cercando di… Qual è… La preghiera… Più forte… Potrebbe essere… Io direi più forte… Io direi più… E più efficace… Più che efficace… La preghiera… Che arriva dritta al cuore di Dio… Comunque lo diciamo… La preghiera che arriva dritta al cuore di Dio… Ma intanto… Continua a squillare… E la lode perché… Se io sono nella necessità… E prego… Prego perché sono necessità… Sì… Se io sono nella gioia… E prego… E prego perché sono nella gioia… Ma la preghiera di lode è riconoscere la grandezza di Dio… E senza chiedere nulla… Perché Dio stesso che è grande e che fa… E' la preghiera dell'ebreo… La preghiera più presente nella Bibbia… La preghiera più presente nei salmi… La preghiera presente in Gesù… Signore ti lodo e ti benedico… Per quello che tu sei… Per quello che tu fai… E non per quello che ti chiedo… Se lo ottengo o non lo ottengo… Eccetera… Quindi la preghiera più importante… Più grande… Più presente anche durante la Messa… E' la lode… Anche l'Ave Maria… La prima parte… E' una grande lode… Al Signore per Maria… Benedictus… Magnificat… Eccetera… Tutte grandi lodi… Al Signore… In cui non si chiede nulla… Si loda… Per quello che Dio è… E per quello che Dio ha fatto… Arrivano messaggi… Altri messaggi… Li leggeremo la prossima volta… Appuntamento alla prossima settimana… Grazie alla Dere Galbuto… Grazie per il tuo messaggio… È vero… Di ai suoi tempi… Eh… Sono tanti i messaggi… E poi adesso qui ci tagliano… Ci tagliano completamente… Ci tagliano completamente… Abbiamo degli… Degli spots… Sì… Una pausa… A più tardi…